... Bush che una volta che ha smesso di essere presidente non ha fatto come gli altri che è andato in giro a fare le conferenze da un milione a volta è appunto che conferenze I got a little something for the weekend something for the weekend Ben West Beach undice... Ben West Beach 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 è soltanto